Musica Ben trovati alla seconda edizione del TG6 A Teramo torna la paura del terremoto dopo l'ultima scossa di ieri pomeriggio di magnitudo 4.4 con epicentro a 22 km dall'Aquila la popolazione è fortemente stressata e già da domani un gruppo di psicologi raggiungeranno i comuni di Cortino Crognaleto, Campli e Tossicia per prestare volontariamente la loro opera professionale intanto dopo l'esposto presentato da un gruppo di genitori parte l'indagine della Procura della Repubblica per omissione di lavori sulle scuole terramane Tania Bonici Castelli Lo avevano promesso i genitori della scuola elementare Noè Lucidi di Teramo il giorno della riapertura dell'edificio scolastico dopo il terremoto del 30 ottobre quella crepa sul solaio del secondo piano nonostante i lavori di consolidamento proprio non ci doveva essere e così è partito l'esposto alla Procura di Teramo ed oggi il fascicolo è sul tavolo del pubblico ministero Davide Rosati si indaga per omissione di lavori in edifici che minacciano rovina un'indagine che si allargerà a macchia d'olio su tutte le altre scuole terramane per verificare come e dove sono stati eseguiti i lavori antisismici dagli enti pubblici inutile dire che la popolazione vive uno stress senza pari dopo l'ultima scossa di ieri sera 29 novembre registrata alle 17.14 di magnitudo 4.4 con epicentro a Capitignano 22 km a nord-ovest dell'Aquila l'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo in collaborazione con il Dipartimento di Psichiatria dell'Asla di Teramo ha messo in campo un gruppo di volontari pronti a supportare psicologicamente i cittadini terremotati da domani almeno 50 professionisti presteranno la propria opera nei comuni di Cortino, Campli, Crognaleto e Tossicia anche l'amministrazione comunale di Teramo vorrebbe creare uno sportello di ascolto per sostenere le persone scioccate dal sisma anche l'ultimo report del comune non ha migliori notizie da comunicare 12 sono state ieri le ordinanze di sgombero emesse dal sindaco Brucchi che hanno coinvolto 29 famiglie gli edifici inagibili si trovano a Via Campana, Nepezzano, Forcella e Villa Stanchieri e mancano ancora oltre 3.000 verifiche da effettuare e come concordato con il Comitato Genitori Melchiorre Delfico Cittadinanza Attiva Scuole Teramo è stata convocata per il 7 dicembre alle ore 17 un'assemblea aperta con la partecipazione dell'ingegnere che ha redatto il progetto di sistemazione della copertura del liceo convitto delfico di Teramo Nicolino Rampa l'incontro si svolgerà nell'Aula Magna e naturalmente ci saranno anche il presidente della provincia di Teramo Renzo Di Sabatino e il consigliere delegato all'edilizia scolastica Graziano Ciapanna sarà illustrato il progetto di sistemazione della copertura del liceo finanziato con il programma Scuole Sicure dopo il sisma del 2009 di 1.169.000 euro e quello di miglioramento sismico di 2.500.000 euro per il quale ci si è candidati a finanziamento e a distanza di qualche settimana ieri nel corso di un apposito servizio i carabinieri della Compagnia di Pescara hanno rinvenuto in alcune aree comunali comuni di palazzine di Via Tavo delle armi le indagini non sono concluse ci sarebbe già un sospettato Paolo Renzetti Ancora un ritrovamento di armi e munizioni in alcune pertinenze delle palazzine di Via Tavo nelle quartiere Rancitelli del ferro di cavallo di Pescara dove già nelle settimane scorse i carabinieri della Compagnia Adriatica avevano rinvenuto un revolvere delle cartucce il materiale è stato posto sotto sequestro e ora verrà analizzato dagli esperti del RIS per risalire ad eventuali impronte gli inquirenti sarebbero inoltre questa volta anche sulle tracce di un sospetto Maggiore Scarponi ancora un ritrovamento di armi ancora una volta in Via Tavo nella zona del ferro di cavallo non è stato un ritrovamento casuale? Casuale è difficile perché c'è sempre dietro tanto lavoro sia quando i servizi danno esito positivo come questa volta e come pochi giorni fa sia quando i servizi a volte non danno l'esito positivo il nostro obiettivo è quello di monitorare e mettere pressione alle persone che delinquono e andare a tutelare far sentire la presenza dello Stato la nostra avvicinanza a tutti i residenti onesti le tante persone che abitano in questi luoghi non sempre facili Andavate alla ricerca probabilmente di droga avete trovato delle armi ma questa volta a differenza di due settimane fa quando avevate rinvenuto anche altre armi e munizioni ci sarebbe anche un sospettato? Allora al momento non abbiamo un nome siamo convinti di dare un nome e un cognome al proprietario delle armi rinvenute questa volta e delle armi rinvenute pochi giorni fa stiamo cercando di stringere il cerchio ma è ancora presto per farlo Si può parlare di allarme sociale alla luce del ritrovamento di poche ore fa? No, non è allarme a mio avviso queste due operazioni testimoniano la capacità operativa dell'arma dei carabinieri di togliere degli strumenti di morte Un allevamento abusivo di cinghiali selvatici senza alcun tipo di controllo o certificazione soprattutto in materia di patologie trasmissibili all'uomo in caso di consumo delle carni con gravissimi rischi dal punto di vista sanitario è quanto hanno scoperto i carabinieri del NAS di Pescara in un comune della Valle del Salto nell'Aquilano per l'attività zootecnica è stata disposta all'immediata sospensione con il contestuale sequestro di tutti gli animali presenti cinghiali e suini Annesso alla struttura c'era anche un mangimificio clandestino è stata bloccata la commercializzazione del mangime ed è stata disposta la sospensione di tutte le attività produttive l'indagine ha preso spunto da una segnalazione anonima che parlava di un allevamento abusivo di cinghiali selvatici con conseguente commercializzazione delle carni che anche in considerazione dei rischi sanitari connessi a tale attività ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti i NAS hanno trovato all'interno di un capannone 27 suini e 8 cinghiali mentre in un locale attiguo sono state rinvenute le carcasse di altri ungulati verosimilmente abbattuti durante la caccia i carabinieri del NAS a questo punto hanno subito richiesto l'intervento dei veterinari dell'ASL l'ipotesi è che i cinghiali una volta macellati avrebbero potuto raggiungere le tavole degli aquilani le sanzioni amministrative combinate al proprietario degli impianti ammontano circa 20 mila euro e ancora un'indagine sulla ricostruzione post sisma da parte della guardia di finanza di l'Aquila ancora una volta false attestazioni per lavori di ristrutturazione in un condominio nei guai una ditta aquilana Giorgio Alessandri i finanzieri del nucleo di polizia tributaria dell'Aquila hanno denunciato per indemida percezione di erogazione ai danni dello Stato FT classe 1976 dell'Aquila rappresentante legale di una società affidataria di lavori di ricostruzione di un condominio gravemente danneggiato dal sisma del 2009 attraverso attraverso due false autocertificazioni attestanti l'avvenuto pagamento di due fornitori informa una nota delle fiamme gialle il soggetto ha ottenuto indebitamente da parte del comune dell'Aquila il pagamento di due sal gli stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di oltre 500 mila euro i finanzieri gli hanno sequestrato una somma pari a 90 mila euro corrispondente all'importo delle fatture non pagate ai fornitori l'attività di servizio si inquadra in un più ampio contesto investigativo che vede le fiamme gialle coordinate dal pool di magistrati della Procura della Repubblica nell'ambito del progetto CRASI centro ricerca e analisi per lo sviluppo investigativo impegnate già da tempo in mirati accertamenti volti alla verifica dell'autentica delle autocertificazioni di avvenuto pagamento dei subappaltatori o fornitori prodotte dagli affidatari dei lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati del sisma il contrasto a tale fenomenologia illecita assume sempre più rilevanza nell'azione svolta dalla Guardia di Finanza per gli effetti distorsivi delle regole di mercato che per ragioni di intuitiva evidenza determina gli affidatari dei lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati al sisma che omettono il pagamento dei propri fornitori di beni e servizi i cosiddetti subappaltatori oltre a non assumersi alcun rischio di impresa atteso che i pagamenti per i lavori da loro svolti vengono elargiti puntualmente dall'amministrazione comunale a ogni sala e trattenendo quindi per sé tutti gli utili privano di preziose risorse finanziarie le imprese più piccole determinandone sovente se non il fallimento quanto meno la sofferenza concessioni concessioni demaniali all'asta l'introduzione della direttiva Bolkestein tanto temuta dai balneatori italiani non potrà essere prorogata al 2020 come richiesto dopo tanti appelli dalle istituzioni e dai balneatori italiani questa mattina a Pescara associazioni di categoria e rappresentanti della politica si sono riuniti per chiedere un intervento da parte del governo Francesca Romana Testi Direttiva Bolkestein di nuovo al centro dell'attenzione dopo la bocciatura della proroga richiesta dall'Italia con data 2020 il caso è quello dei balneatori che vedranno messe all'asta le concessioni demaniali che per generazioni hanno costituito l'unico patrimonio per interi nuclei Noi oggi siamo riuniti qui grazie al sindacato italiano dei balneari la Sib di Riccardo Padovano per quanto riguarda quello regionale a discutere di una proposta di legge che abbiamo fatto presentato pochi giorni fa affinché nel more che il governo nazionale stabilisca il nuovo regolamento la nuova legge sul demanio marittimo si affidi alle regioni le competenze principali quelle secondarie ai comuni la possibilità che i balneatori avendo la possibilità avendo avuto anche sul codice della navigazione la possibilità di avere il prolungamento della concessione la possibilità di un reggio di 6 a 20 anni la possibilità di dare continuità all'attività lavorativa altrimenti rischieremo di trovarci senza anche con nessun stabilimento balneare la prossima estate l'Italia ha inventato il turismo balneare è stata per anni leader mondiale del turismo balneare e questa peculiarità non viene riconosciuta dall'Europa ma noi non chiediamo di uscire fuori dalle regole chiediamo di muoverci all'interno delle regole europee con delle certezze cioè anche il diritto europeo riconosce a noi dei diritti tutti quanti dimenticano che all'interno dei doveri che ci vengono in qualche modo richiesti ci sono dei diritti e noi chiediamo che vengano fatti valere questi diritti in arrivo nuove tasse per l'assistenza socio-sanitaria i consiglieri regionali di Forza Italia tornano a parlare del nuovo piano approvato dalla regione che impone con partecipazione nella spesa delle famiglie anche con basso reddito ascoltiamo con partecipazione nella spesa sanitaria nuovi costi per i cittadini abruzzesi con familiari bisognosi di cure assistenza Forza Italia torna a parlare del nuovo piano socio-sanitario che prevede soie ISEE basse e con partecipazione nella spesa fino all'80% per le famiglie con basso reddito Una tassa in più sulle prestazioni sanitarie fuori da ILEA e sui servizi sociali e socio-assistenziali che i comuni erogano cioè devono pagare qualcosa che prima con noi non veniva pagato dopo due anni e mezzo la Giunta approva delle soglie ISEE avendo la competenza solo per un minimo e un massimo e lasciando libero arbitrio ai comuni che se ce ne sono di virtuosi possono calibrare i carichi su chi più ha come giusto e sgravare chi meno ha la Quinta Commissione boccia la organizzazione delle soglie ISEE prodotte dall'assessorato che usa un escamotage perché il parere dove sarà dato in 20 giorni e sarà dato in 23 giorni e riapprova le soglie ISEE come sono a cui i comuni dovranno essere obbligati altrimenti non vedranno trasferirsi i fondi regionali per erogare i servizi sociosanitari un atteggiamento di prevaricazione denuncia Forza Italia che spiega come la Regione abbia imposto cifre precise ai comuni quando invece avrebbe dovuto solo indicare una forchetta di minimi e massimi in realtà i comuni avrebbero diritto nell'ambito di un minimo ed un massimo stabilito dalla Regione di potersi regolamentare in base alla volontà che i sindaci hanno rispetto ai propri amministrati i comuni oggi sono soffocati dall'assenza dei trasferimenti di risorse siamo arrivati a novembre del 2016 attendono da 10 mesi di poter capire cosa devono scrivere nel loro bilancio è chiaro che accetteranno qualsiasi cosa gli daranno pur sapendo che la Regione li sta obbligando a fare gli esattori dei cittadini in difficoltà delle proprie città benché non ne ha competenze il 22 dicembre 2010 moriva Filomena degli Castelli una donna considerata tra i più illustri personaggi della scena abruzzese fu la prima a diventare membro dell'assemblea costituente nel lontano 1946 a sei anni dalla sua scomparsa questa mattina è stata intitolata una sala a suo nome nel palazzo della Regione di Pescara in Viale Bobbio fu l'unica donna abruzzese a diventare membro dell'assemblea costituente era il 1946 Filomena degli Castelli insegnante successivamente rappresentante della politica nata a città Sant'Angelo nel 1916 dopo una lunga carriera si è spenta nel dicembre del 2010 l'abruzzola ricorda tra le personalità di spicco della sua regione ed oggi con una cerimonia a lei dedicata le intitola una sala nella sede del palazzo della Regione di Pescara alla presenza di istituzioni e giovani studenti legate alla sua storia lei è una testimonianza forte per i nostri ragazzi è la testimonianza di una donna che ha dedicato la sua vita al bene comune il suo abc era agire per il bene comune oggi si parla di introduzione di Quote Rosa pensando alla figura di Filomena degli Castelli la donna non era riconosciuta come qualcosa di estranea alla politica oppure lei era riuscita a dare un'immagine diversa ma lei certamente era riuscita dove altre non sono riuscite perché è accaduto allora ed accade ancora oggi che chi ha la possibilità chi ha i mezzi economici per organizzarsi riesce ugualmente ci sono delle donne molto brave che però non hanno la possibilità di provvedere alla propria organizzazione della casa della famiglia e quindi in questo caso deve intervenire lo Stato con le politiche di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro e poi in questo momento è importante che si intervenga anche per riservare delle quote alle donne che altrimenti rimangono indietro e noi non riusciamo a recuperarlo a questo ritardo culturale che abbiamo Un'istanza presentata dagli avvocati dell'ex presidente della regione Gianni Chiodi fa slittare al 6 giugno prossimo la discussione e la sentenza del procedimento che vede imputati lo stesso Chiodi l'ex sub-commissario Giovanna Baraldi l'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni e due tecnici dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali accusati a vario titolo di falso violenza privata e abuso d'ufficio i legali dell'ex governatore i terramani Pietro Referza e Enrico Mazzarelli si sono avvalsi dell'ADL che sospende le attività processuali per le persone residenti nell'area del cratere individuata dal governo in seguito alle ultime scosse di terremoto il GUP Gianluca Sarandrea ha fissato la prossima udienza nella prima data utile successiva alla scadenza dei termini della sospensione prevista per il 31 maggio lo slittamento non incide sui tempi della prescrizione e l'amministrazione comunale di Pescara ha presentato questa mattina il progetto di riqualificazione del parco dell'infanzia grazie a una sinergia con la Caritas diocesana vediamo Assessore di Pietro oggi presentate questa iniziativa che riguarda il recupero del parco dell'infanzia di Via Tavo una zona quella di Rancitelli con grosse problematiche sociali sì esattamente una zona qui noi tutti come amministrazione comunale teniamo tantissimo anche perché vediamo nel parco dell'infanzia veramente un simbolo del degrado e della pericolosità di quel quartiere oggi certificata anche dalle cronache dei carabinieri ma vediamo in questo anche la possibile rinascita di quel quartiere con la Caritas da più di un anno stiamo portando avanti grazie anche alla collaborazione di moltissime associazioni attive sul territorio un progetto per coinvolgere i bambini le famiglie e residenti sappiamo che negli anni è stato abbandonato vittima di vandalismo di degrado ha avuto anche un incendio lo scorso gennaio adesso iniziamo a mettere un primo passo prima dopo aver fatto una riqualificazione diciamo morale all'interno del parco adesso proviamo a mettere un primo passo per riqualificare appunto la struttura realizzeremo un campo da calcetto che sarà gratuito per tutti i residenti rimetteremo nuove giostrine abbiamo già ripiantonato degli alberi rifaremo tutto il manto erboso perché ad oggi risulta molto compromesso è importante anche questa collaborazione con la Caritas è importantissima perché grazie appunto al loro lavoro abbiamo scoperto cosa i residenti appunto del quartiere Villa del Fuoco volevano all'interno del parco hanno fatto un porta a porta per quasi un anno chiedendo ai cittadini come immaginassero quel parco loro ci hanno detto appunto che volevano un campo di calcetto che nel quartiere gratuito ovviamente non c'è e così grazie ad una somma cinquantadue mila euro recuperate dall'assicurazione per atti di vandalismo adesso mettiamo appunto iniziamo questa prima piccola riqualificazione dell'area verde i lavori dureranno poco non più di un mesetto dovrebbero durare il tempo di fare la gara diciamo a gennaio partiranno entro marzo sarà pronto e all'Aquila saranno ripristinate le strisce blu per i parcheggi a pagamento non solo nel centro ma anche appena fuori dal cuore della città si cerca così di agevolare il ricambio nella sosta vediamo per alcuni una rivoluzione per altri un segno di ritorno alla normalità il ripristino delle strisce blu e dei parcheggi a pagamento annunciato dal sindaco Cialente è sicuramente una scelta destinata a far discutere già perché 642 staglie a pagamento non interesseranno solo il centro storico ma anche numerose strade attigue da via Ale Corrado IV a via Castello da via Pescara a via Strinella arterie stradale dove oggi è impossibile o quasi parcheggiare dopo l'ingresso dei dipendenti negli uffici vero ma è altrettanto vero che sarà necessario trovare una soluzione per chi in quelle aree lavora o è tornato a vivere sicuramente per il sindaco sarà un modo per favorire il ricambio di auto e aiutare il commercio in centro non capisco quelli del centro storico del sindamento in particolare i commercianti in assurdo questi posti come vedrete non sono al centro storico sono soprattutto intorno agli attrattori di traffico il seno 88 il tribunale altre zone perché sono zone in cui un cittadino non può andare se io oggi devo andare a fare una radiografia al seno 88 devo andare alla banca devo andare alla CNA devo portare il nipotino al controllo del pediatra ma alle 10 e mezza si trova un parcheggio intorno al seno 88 manco a pagarlo deve andare alla questura e rifare un passaporto sei perduto deve arrivare ma manco alla coppia forse forse alla coppia il torione riesce a parcheggiare lì allora come si risolve in tutte le città? si risolve attraverso le aree a sosta a pagamento e una piccola quota con le aree a discorario previsti per andare via castello fondamentale e di nuovo il giro che riscende per ricongiungersi è chiaro tutto questo è un atto dovuto se così si può dire laddove si crea un discorso ovviamente di parcheggio dini parcheggio a pagamento e bisogna dare un'alternativa a chi ha interesse a venire il centro storico e tra i appuntamenti venerdì prossimo 2 dicembre al parco della scienza di Teramo andrà in scena uno spettacolo teatrale dal titolo flusso di coscienza il protagonista sarà un ragazzo disabile che racconterà attraverso una storia la realtà vissuta ogni giorno da tante persone malate e dalle loro famiglie in servizio portare la disabilità in scena per sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi quotidiani di tante persone malate e delle loro famiglie sarà questo l'argomento trattato dalla pièce teatrale dal titolo flusso di coscienza rappresentata il 2 dicembre alle ore 21 al parco della scienza di Teramo l'attore protagonista sarà davvero un ragazzo disabile e la regie di Alberto Anello l'iniziativa di solidarietà è stata organizzata dall'associazione a Billy Byte e dalla corale Laos Perennis di Colle Parco lo spettacolo racconta la storia di un ragazzo disabile che riesce e vuol far capire quali sono le problematiche come vive un ragazzo disabile cioè lontano dal mondo e vuole cercare di esprimere attraverso questo spettacolo le sue sensazioni i suoi pensieri i suoi desideri le sue sensazioni i suoi bisogni questo ragazzo e questo spettacolo è stato ideato da un ragazzo disabile Manolo Pelusi che è poi presidente dell'associazione a Bill Byte che ha lo scopo di creare un volontariato per la fornitura di ausili informatici per queste persone che hanno difficoltà sia a parlare sia a muoversi sia a nutrirsi lo spettacolo teatrale sulla disabilità a flusso di coscienza ha incassato anche la collaborazione dell'assessorato al welfare del comune di Teramo che fa un punto sull'abbattimento delle barriere architettoniche in città stiamo cercando di far sì che siano sempre di meno sarei bugiarda nel dire che sono state abbattute tutte si deve ancora lavorare anche a livello burocratico abbiamo in animo di portare nei prossimi giorni la delibera per la nomina del disability manager insomma questa figura che all'interno del comune dovrà occuparsi appunto della messa a norma delle strutture o comunque di seguire la parte amministrativa burocratica delle pratiche e insomma cercheremo piano piano di venire incontro a quelli che sono gli interessi primari dei cittadini soprattutto di quelli che hanno più bisogno a Pescara l'Aurum e l'Auditorium Flaiano ospiteranno il 2, 3 e 4 dicembre il Festival della Gioia tra i giorni di appuntamenti per grandi e più piccoli vediamo il servizio vogliamo celebrare la gioia vogliamo avere un approccio positivo per la vita e questa cosa ce l'hanno insegnata tutte le persone che noi andiamo ad assistere dove noi andiamo a fare volontariato in ospedale e nei vari ambiti gli anziani i centri anziani loro ci hanno insegnato che si può vivere la sofferenza il disagio e i momenti di difficoltà con la gioia e la positività quindi abbiamo voluto organizzare questo festival in occasione dei nostri 10 anni di attività qui abbiamo alcuni dei nostri volontari e abbiamo invitato delle persone che ci potessero trasmettere questo tra cui Simona Azzori che verrà il 3 dicembre alle 15 al Flaiano e ci parlerà della sua vita del modo in cui lei con la gioia è riuscita ad affrontare e a rendere la sua vita una meraviglia e poi ci sono tantissimi altri appuntamenti il venerdì 2 dicembre alle 18 faremo l'inaugurazione con un pittore presso l'Aurum che ha fatto tutta una serie di opere artistiche sue proprio per la gioia e poi il sabato sera oltre a Azzori il sabato sera sempre al Flaiano ci sarà una serata meravigliosa di allegria condotta da Federico Perrotta e con tanti artisti che vengono graficamente e la domenica tutto il giorno all'Aurum tra workshop laboratori spazio bambini quindi chi ha i bambini può venire e può portarli e poi tavola rotonda finale e momenti di festeggiamento Ed ora passiamo alla pagina sportiva si sta giocando a Bergamo la gara di Team Cup tra Atalanta e Pescara il punteggio al momento è di 2 a 0 con le reti di Raimondi al settimo e Grassi al ventinovesimo del primo tempo al momento siamo al ventiquattresimo della ripresa e mentre la squadra è impegnata nella partita di Team Cup a Bergamo la parte restante del gruppo che non ha partecipato alla trasferta si è allenata al poggio lavoro differenziato per i soli Coda e Campagnaro tutti gli altri a disposizione ad eccezione dell'attaccante Baebec per il quale il 2016 è praticamente finito gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado al flessore per lui stop di circa 15-20 giorni prima di essere rivalutato dallo staff sanitario e dopo mesi di silenzio è tornato a parlare l'ex direttore generale della Pescara Giorgio Repetto in una intervista concessa al messaggero non sono un lecca piedi ha detto per restare avrei dovuto essere un uomo a personalità zero ed era un prezzo troppo alto a gennaio ho cominciato a vedere momenti movimenti di procuratori e di esse nell'ufficio di Sebastiani e ho capito il problema principale è che nel Pescara comandano i procuratori hanno assunto un peso abnorme ha dichiarato Repetto alla fine ero acerchiato e sono stato insofferente davanti a questa situazione la cosa che mi ha dato più fastidio è avere creduto alla parola d'onore di una persona credo di essere l'unico tesserato del Pescara che ha accettato di avere il premio promozione sulla parola e non ho preso un euro mi sono fidato e a 64 anni ho capito di aver fatto una cavolata e questo è un estratto della più ampia intervista rilasciata a Pierpaolo Marchetti del Messaggero in Lega Pro è altamente improbabile che gli attaccanti Croce e Jefferson possano essere a disposizione per la trasferta di domenica a Forlì da valutare invece Bulevardi rimasto in panchina a Reggio Emilia dopo l'infortunio subito contro l'Ancona potrebbe ambire ad una maglia da titolare che ha lanciato buoni segnali Coppa Italia e nello spezzone di gara giocato al Mappei Stadium il servizio sono state tante cose vere non vere non voglio entrare nei dettagli dell'infortunio però ho passato due mesi brutti anche perché da quando è nata mia figlia non ho mai giocato quindi è stato ancora più brutto per quello perché era nata quindi avevo voglia di giocare per lei quindi sono stati due mesi difficili lo staff io non posso giudicarlo perché non sono un dottore non sono e io in questi due mesi ho avuto un po' di difficoltà con l'infortunio ma perché c'è stato un po' di confusione ora ora sto bene e devo trovare adesso la condizione migliore e spero di dare il mio apporto nel miglior modo possibile alla squadra visto che ne ha bisogno questa è una scelta che aspetta il mister però io ancora non sono al 100% sicuramente della condizione però diciamo che sono pronto perché pensavo di stare peggio pensavo di stare peggio fisicamente invece in Coppa Italia ho fatto 70 minuti e mi sentivo abbastanza bene sarebbe sarebbe un bel sogno un sogno momentaneo perché rientrare da titolare dopo tanto tempo magari fare il gol della vittoria sarebbe bellissimo però l'importante è vincere perché adesso non ci sono più le parole le portano via il vento adesso bisogna fare i punti e secondo me queste due partite sono decisive per il proseguo del nostro campionato se facciamo sei punti in queste due partite tante cose poi andranno meglio Maurizio Gobbi è il nuovo allenatore della Pescara pallanuoto femminile militante nella serie A Gobbi subentra a Tommaso Cianfrone che paga con l'esonero il negativo avvio di stagione con la squadra Bianca Azzurra ancora secco di punti dopo sei giornate di campionato Francesco Mammarella continuerà invece ad essere il direttore tecnico del Pescara pallanuoto e a seguire la serie B e la under 17 maschile Gobbi avrà diverse settimane per conoscere la sua nuova squadra essendola A1 donne ferma per una lunga sosta si tornerà infatti in vasca dopo Natale ed è tutto per questa seconda edizione della TG6 l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione